Dottore Palermo, la ringrazio di essere stato disponibile a questa intervista. Lei è stato protagonista, facciamo un po' di storia, da dove nasce poi tutto quello che ha portato oggi, di un gravissimo attentato alla sua vita nell'aprile del 1985. In tutti questi anni, cosa ha di più chiaro rispetto alle cause e ai momenti che hanno determinato quel tentativo di omicidio, di assassino? Senza dubbio. Vi è stato un passaggio che ha completamente modificato la mia lettura degli episodi dell'85 e di quelli anteriori. Questo passaggio è intervenuto nel 2016, quindi molto recentemente. È stato in quella che ha rappresentato nelle mie intenzioni l'ultima ricostruzione delle vicende nelle quali si è sviluppata la mia vita professionale e quella successiva. Mi sono reso conto che esisteva una componente di cui avevo percepito la presenza, ma non la rilevanza, rappresentata dalla massoneria. Questa componente l'ho individuata senza possibilità di errori nel 2016. E' stato da quel momento che praticamente tutte le mie ricostruzioni, ad iniziare da quelle che hanno riguardato la mia vita professionale a Trento, hanno subito un cambiamento. Questo cambiamento di lettura si è trascinato dal 2016 al 2020, adeguandosi in una maniera impressionante alla realtà dei fatti che ci ha visto protagonisti nella nostra storia in questo ultimo periodo, che ha dunque racchiuso per me un'enorme importanza, perché da una parte mi ha fatto comprendere i fatti del passato, non solo i miei personali, ma anche quelli che hanno riguardato molti e numerosi aspetti delle mie inchieste e dei personaggi magistrati con i quali sono stati in contatto nel passato. E molti degli avvenimenti che sono intervenuti anche in questo ultimo anno, e che hanno travolto e sconvolto la vita dell'intero pianeta. Ecco, il momento in cui lei percepisce questa presenza e quindi diciamo incomincia a orientarsi verso un ambito che di fatto è un ambito totalmente nuovo che lei scopre, qual è il momento in cui lei intuisce che c'è qualcosa, un livello più alto? Diciamo che fin dall'inchiesta di Trento e dalla chiusura che subì la mia chiusura forzata di quella indagine e la sottrazione materiale degli atti che avvenne nell'ottobre del 1984, allora quando la Corte di Cassazione per legittima sospicione fece piazza pulita completa di tutti gli atti che per quattro anni avevano costituito l'oggetto delle mie indagini, diciamo che anche in quel momento io ero perfettamente consapevole sia della esistenza della componente della massoneria, sia della presenza negli atti della mia inchiesta di documenti importanti, soltanto che il tempo limitatissimo che furono nelle mie mani non mi consentì materialmente di svolgere approfondimenti e quindi la mia esperienza successiva, quella determinata dalla mia scelta di proseguire le indagini a Trapani, si trascinò dei vuoti che non avevo potuto approfondire a Trento, perché praticamente le mie indagini su questi aspetti massonici non durò nemmeno un anno e conseguentemente ciò che venne interrotto, ripeto forzatamente, è noto questo, non ho avuto occasione più di riprenderlo approfonditamente, se non quando ne ho compreso l'importanza, ripeto nel 2016 solo e semplicemente perché in quella lettura eseguita a fine vita, perché nel 2014 decisi di scrivere l'ultima mia ricostruzione delle mie vicende, raccolsi tutto il materiale che da allora in 30-40 anni si era accumulato Stiamo parlando del libro alla bestia? Sì, esatto, che non era l'argomento principale di quello che avrebbe dovuto rappresentare la mia ricostruzione, la mia ricostruzione doveva presentare un'ultima lettura eseguita quasi 40 anni dopo il suo nascere Ripeto, è stato solo in quel momento in cui raccogliendo il materiale subentrato nel tempo e che non avevo avuto occasione di approfondire in passato, mi sono reso conto che proprio nei momenti più decisivi dell'inchiesta che condisse a Trento tra la fine dell'83 e l'inizio dell'84, cioè il momento in cui toccai materialmente i centri del potere italiano, cioè praticamente individuai dei ruoli di possibile responsabilità della presidenza del Consiglio in relazione a fatti di particolare gravità e ciò che potetti eseguire nei pochissimi mesi che seguirono All'inizio dell'84 vissi un periodo di enormi conflitti durante il quale a me venne negata la possibilità di conoscere determinati atti che ho scoperto soltanto nel 2016 e che se avessi conosciuto allora avrebbero senza dubbio comportato da parte mia un diverso impulso processuale perché tra l'altro ero giovane e nell'esercizio dei pieni poteri investigativi, quindi ero in grado veramente di svolgere indagini penetranti e dall'altra l'importanza degli avvenimenti che seguirono in quel determinato periodo sono stati importanti in particolare per la storia del nostro paese, quindi veramente quella interruzione che io subì ha condizionato la storia mia ma anche la storia nazionale e internazionale perché a quell'epoca io con un anticipo rispetto ai tempi avevo raccolto prove documentali, documentali intendo alludere non di uno o due documenti ma di qualche migliaia di pagine di documenti che fotografavano la situazione mondiale del traffico degli armamenti intrecciata a quella della droga, del petrolio ma con una vastezza che andava di gran lunga al di là di quegli inquadramenti che abbiamo compreso solo successivamente, cioè ciò che noi abbiamo compreso negli anni 89-90, l'esistenza della struttura Stay Behind di Gladio eccetera, era fotografata negli atti che io avevo sequestrato e che ho tuttora e che sono per la maggior parte in inglese e che non contenevano una descrizione così sommaria come ancora oggi noi continuiamo ad avere perché noi abbiamo una visione legata a questi apparati che hanno avuto un'importanza particolare in Europa e in Italia ma che è collegata e che è il prodotto di nozioni estremamente sommarie che ci sono state date, cioè Stay Behind per l'Europa, per frenare l'avanzata del comunismo, addirittura prima la possibilità di un'invasione, ma per esempio noi non abbiamo mai approfondito e conosciuto invece la identica attività che è stata svolta nelle Americhe e nell'Asia, nell'Estremo Oriente Mentre invece tutta quella documentazione che io sequestrai a quell'epoca non era divisa per cassetti geografici cioè quella dell'Europa, quella delle Americhe, quella dell'Oriente, era l'attività centrale che veniva diramata, che era svolta dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e che riguardava tutto il mondo, conseguentemente la situazione di governo planetario, di tentativo di governo planetario, trascendeva quelle distinzioni che sono state poi a noi sottoposte solo e semplicemente perché negli anni 89-90 dopo il crollo del muro di Berlino, dicendo proprio la più semplice verità, il nostro Ministro degli Esteri e poi Presidente del Consiglio Andreotti, ammise l'esistenza di questi apparati che era ormai venuto a mancare il motivo della contrapposizione tra l'imperialismo degli Stati Uniti e quello sovietico in realtà essendo vissuto in quel periodo io posso dire che lui invece parlò perché fu pressato da indagini italiane che di fronte alle quali sarebbero lo stesso emersi quegli elementi e conseguentemente lui cercò di anticipare il momento in cui quegli elementi sarebbero emersi per farsi merito di rivelare questi aspetti che avrebbero dovuto considerarsi quasi superati ma che superati non erano tant'è che si sono trascinate quegli apparati a livello planetario ma in particolare a livello europeo e italiano non solo in quel periodo lasciando intatti tutti i segreti di Stato italiani, europei e mondiali che sono rimasti sempre in piedi ma lasciando immutate quelle caratterizzazioni di finalità di governo planetario che erano presenti allora e sono presenti esattamente oggi. Torniamo un attimo a Trento, mentre lei ha in mano queste carte si crea una situazione particolare lei ancora non è cosciente di cosa ha in mano ma la controparte ha cosciente di cosa lei ha in mano quindi temendo che lei possa scoperchiare questo vero e proprio vaso di Pandora c'è una manina occulta che la indirizza verso il Partito Socialista e Bettino Craxi quindi lei viene diciamo in qualche modo distorto nella sua indagine e accade poi tutto quello che è nella storia. Come la valuta oggi questa situazione? Io guardi che quando entrai in possesso di quella documentazione ebbi la percezione completa e totale è dell'importanza di quella documentazione perché il 30 marzo del 1983 attraverso un'operazione che feci come operavo in quel periodo senza comunicare a nessuno assolutamente quello che facevo e spinto dico la verità da un entusiasmo e anche da una sorta di incoscienza che però produceva formidabili effetti per la sorpresa e per l'anticipazione con la quale riuscivo ad operare rispetto alle reazioni che invece si attendevano gli altri il 30 marzo del 1983 io sequestrai un mare di documentazione da cui risultavano i traffici di armi pesanti e anche nucleari con la indicazione diretta delle massime responsabilità governative in capo alle fabbriche degli armamenti mondiali che mi fecero rendere conto che era il governo della guerra era il governo planetario cioè l'essermi imbattuto in quelle sigle che a quell'epoca non conosceva nessuno gli NSA cioè i servizi segreti che dall'alto controllano anche le voci delle persone intende la national security agency americana esatto ma averla negli atti processuali avere negli atti processuali personaggi che operavano per quella organizzazione muniti di visto di segretezza cosmic nato e cioè che loro erano a conoscenza dei segreti e che io non potevo nemmeno come magistrato non potevo entrare diciamo così usufruire di uno strumento per venirne a conoscenza mi fece rendere conto della estrema importanza di quelle di quelle carte quindi non è che io non la percepì la percepì immediatamente infatti di fronte a quelle ipotesi di reati che un comune magistrato si trova a dover esaminare io sapevo bene che andavo incontro a dei problemi di carattere anche procedurale di difficile soluzione perché nei traffici di armamenti era chiaro che erano coinvolti paesi produttori e paesi utilizzatori che erano al di fuori dell'ambito territoriale che rientrava nella stretta mia competenza però di fronte all'oggetto di questi documenti e cioè ad esempio forniture di armi pesanti alla Somalia tramite nostri operatori che rivestivano anche determinate funzioni rilevanti e anche note nel nostro paese ho con l'argentina quasi vissute nella contestualità perché io svolsi queste attività tra l'82 e l'83 mentre avvenivano i fatti quindi in contemporanea quasi in contemporanea ecco quindi me ne resi estremamente conto così come mi resi estremamente conto anche della stretta connessione tra questi fatti e la massoneria e in particolare la p2 sulla quale era da pochissimo tempo che era emersa la possibilità di un'indagine perché rimontava appena all'81 il rinvenimento degli elenchi da parte dei magistrati di Milano e l'istituzione della commissione Anselmi in Parlamento e io sequestrai tutto questo materiale tra l'82 e l'inizio dell'83 quindi proprio nella immediatezza dei fatti e sequestrando atti e documenti che riguardavano che erano acquisiti sequestrati e quindi nella mia disponibilità ma provenienti da personaggi come era il generale santovito che era il capo dei servizi segreti iscritto alla p2 ivi comprese le agende del 1980 che è l'anno in cui sono avvenuti i fatti che ancora oggi a 40 anni di distanza sono tutti quanti coperti da misteri e segreti di stato ecco quindi questa consapevolezza io l'ho percepita poi ecco come ha accennato io già allora mi resi conto che venni dirottato ma non dirottato in senso in senso dire che comunque c'erano dei fatti penali rilevanti c'erano dei fatti cioè venni indirizzato verso i centri di poteri di potere italiani e che in qualche modo determinarono poi le contrapposizioni e la chiusura della mia inchiesta ne ebbi una percezione immediata perché io sequestra i documenti a seguito di segnalazione anonime quindi l'ho sempre percepita questa non ho compreso allora ripeto e questo si è trascinato fino al 2016 non ho compreso allora da dove provenisse questo questo depistaggio che a me costò l'inchiesta e grane anche al presidente del consiglio mentre invece era di facilissima lettura perché proveniva esattamente dal 90 per cento del resto dell'inchiesta e cioè da quella matrice componente americana rispetto statunitense rispetto alla quale si poneva in contrapposizione il presidente il nostro presidente grazie e conseguentemente venne in e venne possa in essere nei miei confronti una attività di molestia notevole nei confronti della parte essenziale della mia inchiesta che riguardava ripeto il governo del pianeta dirottandomi su quella parte che più sarebbe stata sensibile alle mie iniziative e perché riguardava la politica che in quel momento riguardava il nostro paese e difatti immediatamente nello spazio di pochi mesi si bloccò l'inchiesta e la massoneria che percepì palpabilmente perché nella mia inchiesta comparvero numerosissimi personaggi che erano implicati nelle indagini della commissione p2 e quelle della magistratura di milano sul banco ambrosiano diciamo così denotarono una commissione palese e una sovrapposizione tra gli apparati segreti della massoneria e lo svolgimento dell'attività dei servizi e dei traffici ma non ebbi materialmente ripeto la possibilità di approfondire questi strumenti perché erano completamente ignoti erano tutti coperti da segreti di stato che in gran parte sono rimasti tali e soprattutto condizionati dalla mancata conoscenza di alcune cognizioni di base come del ruolo di protezione degli arabi palestinesi che era completamente sconosciuto a noi magistrati ma che invece era ben noto ai nostri servizi e ai nostri governanti perché rimontava ai primi anni 70 quindi sto parlando di qualcosa che era di almeno una decina di anni fa precedente e che copriva completamente un settore essenziale degli aspetti criminali svolti in italia in quanto l'effetto di questi accordi garantiva l'impunità per tutti per tutte le attività illecite che loro svolgevano quindi indipendentemente dalla finalità anche diciamo in astratto condivisibile di tutelare la sicurezza del stato italiano contro atti terroristici diciamo la contropartita che venne concessa dai nostri governanti e intendo alludere a tutti a tutti non solo quelli direttamente nominati Aldo Moro e i filoarabi. No, perché questi accordi bene o male ricevettero l'avallo di tutte le componenti, anche filoatlantiche, in quanto facevano parte del sistema dell'epoca. La contropartita fu l'impunità e conseguentemente per questi soggetti si creò la possibilità di realizzare nel nostro paese delle vere e proprie basi operative che hanno operato a livello mondiale proprio perché protette da una impunità che dagli anni 70 arriva all'anno odierno e continuano a essere coperti da questi segreti dei fatti che sono inseriti con efficacia determinante nei più terribili, nei più micidiali avvenimenti della nostra storia. Intendo alludere a tutti i fatti eversivi che si sono presentati in Italia dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 all'inizio sotto il profilo prevalentemente del terrorismo, ma non era solo quello, era quello dell'affarismo, era quello del petrolio, era quello della crescita e dismisura degli apparati bancari che a quell'epoca videro la possibilità di svilupparsi a livello mondiale in connessione con poteri occulti di altissimo livello quello di cui stavo parlando, sicché l'aver creato nel nostro paese una zona d'ombra in particolare per i magistrati che avevano il potere d'indagine ha comportato da una parte per i magistrati una sovraesposizione particolare perché non conoscendo procedevano nello stesso modo nei confronti di tutti incampando in reazioni impreviste e imprevedibili perché la loro motivazione era quella della garanzia da parte del nostro paese dell'osservanza di questi che erano dei patti di stato e questi continuano a essere protetti fino ad oggi quindi noi oggi ancora oggi nel 2020 noi veniamo a trovarci in una situazione in cui ci è resa impossibile la ricostruzione e la lettura della nostra storia da allora ad oggi in quanto ci manca la comprensione da una parte della componente segreta ufficiale quella improntata con il marchio diciamo ma ci manca anche quell'altro che è quello filo arabo che ha riguardato più concretamente gli affari svolti dal nostro paese con tutta la realtà del Mediterraneo e quindi noi oggi nel momento in cui viviamo in questi ultimi due o tre anni degli anni di trasformazione di alleanze ed assetti che non riguardano solo l'Italia ma anche l'Europa noi non è un caso che ci ritroviamo a rivestire dei ruoli di particolare importanza proprio perché non sono altro che dei ruoli che si presentano in una continuità precisa rispetto ai fatti anteriori e che hanno visto una nostra parte in particolare nei fatti dall'89 al 94 nei fatti che poi sfociano negli attentati del 2001 nei fatti che sfociano nella fase dal 14 fino al 17-18 per arrivare all'ultima fase in cui subentra sempre con una maggiore prepotenza l'esistenza di un'altra componente che è quella dell'estremo oriente che si badì bene era presente fin dall'origine perché era accanto alla componente dell'unione magnetica entriamo nella parte attuale dottore allora lei ha detto che si trova davanti un muro rappresentato dal livello di segretezza il cosmic tropic secret quindi come magistrato non aveva la possibilità di entrare quando è la prima volta che li imbatte con questo livello di segretezza? il giorno in cui li arresto il giorno in cui sequestro i documenti perché il giorno 30 che è il 30 marzo che è il giorno nel quale io mi reggo negli uffici della criminal pol di Roma che a quell'epoca era collegata devo proprio riconoscere con una accuratezza e con successi che non ho visto ripetuti sino ad oggi in quanto le indagini fino a quel momento procedevano con una collaborazione a livello internazionale è favolosa, favolosa, era automatica era automatica perché erano coinvolti i massimi livelli internazionali fino a un certo punto fino praticamente a quel momento vi è stata una parte io potrei dire la parte buona dei nostri servizi perché noi non dobbiamo pensare che nei servizi sia tutto negativo no, non è così esistono delle attività soggettive di determinati personaggi che hanno svolto determinati ruoli e purtroppo hanno comportato determinate conseguenze ma le istituzioni non sono state di per sé sono state manovrate sono state utilizzate e dato che usufruiscono delle garanzie della segretezza la segretezza ha coperto sia gli uno che gli altri ecco però voglio dire così quel giorno lì fu un giorno nel quale praticamente venne a galla completamente tutto anche se la sua base era già nell'82 perché la particolare caratteristica che presentò quella inchiesta di Trento diciamo trova la sua base nei fatti anteriori noi siamo abituati a suddividere e distinguere i fatti della nostra storia secondo degli schemi che a volte sono troppo coincidenti con i processi perché i processi hanno la loro importanza perché sono dei fatti diciamo illuminanti illuminanti perché o viene ucciso un personaggio o avviene un determinato fatto e quindi illuminano quel periodo ma la storia è continua e conseguentemente quando si parla di una lettura della storia la lettura della storia invece è continua e conseguentemente non è possibile quindi questi cambiamenti hanno una logica continuativa continuativa cioè quando io ho fatto un accenno allo scontro che io ho avuto nella mia inchiesta con personaggi che non mi si disse fossero palestinesi ma è chiaro che io mi sono imbattuto nel sequestro e nell'uccisione di Aldo Moro perché è stato lui il primo durante i giorni del sequestro e in tutte le comunicazioni non in quattro ma in tutte a parlare di questo altro accordo di cui lui voleva presente già nel 78 ma sul quale ci fu un quacerbo di segretezza sia da parte del delle forze di governo che indubbiamente potevano essere direttamente interessate a non rivelare ciò che veniva compiuto in deroga e in violazione dei patti ufficiali cioè nei confronti degli Stati Uniti ma anche dell'opposizione perché non dimentichiamoci che la politica filo palestinese vedeva come partner privilegiato una consistente parte estremista coincidente con determinate ideologie estremiste di sinistra che erano contigue ai movimenti palestinesi e quindi praticamente vi fu una segretezza che fu totale e alle quali si aggiunse e si manifestò e fu anche palese e percepibile quella della chiesa e già quella avrebbe potuto indicare in modo assai preciso che che vi era un'altra controparte ancora che era quella della massoneria la componente della massoneria non a caso anche nell'episodio del sequestro e dell'uccisione di Alto Moro la comprendo esattamente dal 2016 quando mi rendo conto un momento dottore poi entriamo nell'argomento specifico sempre in quella situazione che li vivi a Trento comunque da quanto lei adesso e poco prima ha espresso c'era comunque nella dare a lei quelle informazioni anonime che poi l'hanno condotta a scoprire quei traffici che collegavano al partito socialista e a Bettino Craxi evidentemente questo potere occulto aveva già in mente un cambio di regime in Italia che poi sfocerà con mani pulite la caduta della prima repubblica quindi c'era già un piano di trasformazione nella ottica della continuità di cui lei parlava prima io questo non ho capito allora perché non era comprensibile oggi però lo possiamo dire io ripeto certi fatti li ho compresi in particolare dal 2014 2016 e fino ad oggi certi fatti però erano in qualche mondo percepiti da noi magistrati perché l'esistenza di questi di queste attività occulte svolte sia dalla massoneria sia dai servizi segreti diciamo così che erano intuite fin dall'epoca in cui venne scoperta la P2 e anche nel periodo precedente perché gli elenchi vennero scoperti nell'81 ma l'attività svolta da Licio Gelli e diciamo le interessenze le convergenze con il caso del Banca Ambrosiano Calvi Ambrosoli insomma costituirono un oggetto di sindona furono seguite sia pur molto separatamente in inchieste diverse però vennero percepite da molti magistrati a Venezia dai magistrati che si occuparono dei rapporti quelli sì tra le brigate rosse e palestinesi 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 come Yasser Arafat cioè quello che mancò ripeto fu una cognizione della importanza fondamentale della unitarietà di un progetto che esisteva e continua a esistere perché continua a essere protetto da segreti di Stato che quindi vuol dire che sino ad oggi presentano una rilevanza determinante nella lettura della nostra storia e nel ruolo di personaggi che evidentemente svolgono ancora dei ruoli attivi o comunque cognitivi delle realtà del passato che hanno condizionato che hanno condizionato la vita la morte la uccisione di servitori dello Stato che occasionalmente e anche senza saperlo si sono resi semplicemente responsabili di essersi avvicinati a queste verità e che in qualche modo sono stati eliminati lasciando delle zone d'ombra enormi in quasi tutti i processi e della eversione del terrorismo rosso nero di qualsiasi colore delle forze di polizia che hanno agito nei confronti di questi servizi e nei confronti della materialità delle attività svolte che sono tutte quante rimaste caratterizzate dalla esistenza di ombre che continueranno a essere a rimanere tali fino al momento in cui qualcuno non ci venga a dire le cose che mancano perché non è che la storia non si spiega è che non ci viene detta perché se mancano le chiavi di lettura cioè una chiave di lettura che manca di un segreto di stato ne fa scaturire 50 100 200 mille in 20 anni perché consente di comprendere la copertura di un nome di un nome che su un atto coperto da segreto di stato è una cosa facilissima perché ci sta sopra un segnetto di neretto o come per il caso di laria alpi continuano a proteggere delle fonti una fonte perché è ancora vivente grazie se si toglie la possibilità di conoscere una chiave di lettura si immagini quante cose potrebbero uscire fuori da quel nome certo ecco e se moltiplichiamo questo per tutti i segreti di destra di centro di sinistra e vediamo che le proiezioni non sono altro che quelle che poi portano allo svolgimento delle attuali attività ci si rende conto che non è possibile attendersi da parte della magistratura la ricostruzione della nostra storia assolutamente questo è il discorso quindi l'intuizione che lei ha che esisteva un livello di comando ancora più elevato era immediatamente presente era presente anche perché di fronte ai documenti che io sequestrai gli imputati ammisero subito ammisero tutto ma ammisero come prima cosa anzi più che ammisero ne cercarono come uno schermo protettivo ah io lavoro per gli NSA non sapevo nemmeno che cosa fossero gli NSA però poi è chiaro che io passo la richiesta di informazioni agli organi di polizia giudiziaria e non mi dicono niente perché c'era questo livello perché questo è il discorso che non è solo un segreto italiano è un livello internazionale sì ecco però la percezione diciamo della serietà di questo problema si manifestò in tantissimi modi come nel nel fatto di vedermi raggiunto pochissimi giorni dopo l'arresto di Arsnerri che era avvenuto nell'ottobre dell'82 pensi quindi torno indietro al passaggio precedente dell'addetto militare degli Stati Uniti Francis Bossen che venuto a conoscenza per quelle poche informazioni che all'epoca furono consentite che erano minime sul contenuto dei documenti che erano stati sequestrati venne attreddo per cercare di capire come era possibile che delle armi NATO in quel caso si trattava dei leopard carriarmati nella disponibilità eccetera potessero essere sul mercato nero del quale mi occupavo io e che mi trovai quasi nella condizione se mi fosse stato consentito ero giovane forse l'avrei potuto anche fare di arrestarlo ma godeva di immutità diplomatiche si rifiutò di firmare il verbale io ufficializzai dato che lui si presentò venendo a Trento poi ne formalizzai la richiesta di un interrogatorio formale e immediatamente lui era stato richiamato negli Stati Uniti e non compare cosa incredibile tra i soggetti almeno gli elenchi ufficiali di coloro che hanno svolto attività presso la nostra ambasciata in Italia cioè praticamente dietro quell'attività che io svolse a Trento c'è stato uno sconvolgimento uno sconvolgimento degli assetti nei poteri diciamo direttivi su queste vicende che riguardavano il governo della guerra il governo planetario che costituì una caratterizzazione particolare nella mia inchiesta che è mancata in altre inchieste questo che lei dice dottore si riallaccia perfettamente al discorso che fa il presidente Eisenhower nel 61 quando fa il saluto di commiato al popolo americano dicendo di stare attenti al complesso militare industriale perché se fosse stato ancora più pervasivo all'interno delle istituzioni di fatto avrebbe inficiato l'esercizio della democrazia quindi lei questo avvertimento che Eisenhower fa a fine del suo ultimo mandato lei lo ritrova perfettamente nei documenti perché i soggetti che operano direttamente in tutta questa documentazione che la posso mostrare in qualsiasi momento perché l'ho conservata perché contiene ripeto una fotografia che è rimasta tale perché dato che non ebbe la possibilità di incidere attivamente per oscurarla o per smascherarla integralmente è rimasta quindi costituisce una chiave di lettura bancaria di estrema importanza con la caratterizzazione che non sono ci sono anche ministri e presidenti ma per la maggior parte ci sono gli operatori reali che sono privati e banche ecco che è che rappresentano i soggetti che lei ha citato dal 1960 61 e 69 ma sono passati 60 anni durante i quali si assiste allo svuotamento delle funzioni e delle attività svolte dalle istituzioni ufficiali a cominciare da quelle degli Stati Uniti per arrivare a quelle europee a quelle italiane e in cui a fronte di quelle che dovrebbero essere le attività svolte dai soggetti istituzionali ci si trova invece di fronte a attività svolte da privati industrie privati o altre forme di aggregazioni che mano a mano hanno preso piede nel tempo che sono quelle multinazionali alleanze e oggi hanno molte chiavi di molte definizioni ma che in fin dei conti racchiudono esprimono un concetto e cioè che oggi non governano gli Stati e le nostre rappresentazioni geopolitiche del pianeta non corrispondono all'esercizio dei poteri reali che invece sono spiegabili dalle multinazionali che invece queste racchiudono esattamente esattamente a volte anche nel nome una trasversalità molto spesso in stridente contrasto con quelle contrapposizioni di carattere geografico politico che apparentemente dovrebbero governare il mondo ecco e qui questo era già presente nella mia inchiesta di Trento perché il vedere che l'organizzazione che vedeva in capo gli Stati Uniti cioè diciamo le attività operative dei servizi la CIA gli NSA questi erano gli organi direttivi più direttivi in queste attività che fornivano sto parlando del 1982 armamenti all'Iran di armi sovietiche vuol dire che vi era veramente un controllo planetario che comportava un accordo trasversale in cui ciò che viene rappresentato all'opinione pubblica mondiale è una copertura è quasi uno spettacolo è una spettacolarizzazione è una rappresentazione una vera messa in scena esatto è una messa in scena diversa da quella che è la realtà che è Grazie per la visione!